Luca Onestini e Ivana stanno insieme ufficialmente, Veressimo conferma Grande fratello VIP, Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme. È ufficiale, Luca Onestini e Ivana Mrazova del Grande fratello VIP stanno insieme. A confermare il gossip delle ultime settimane è Veressimo, nella rubrica I giri di Valzer. Il programma di Silvia Toffanin ha svelato che l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella cieca sono ufficialmente una coppia ma che per una questione di riservatezza stanno vivendo il loro amore nel riservo più assoluto. Ma, secondo la trasmissione Mediaset, i due usciranno presto allo scoperto, magari entro la fine di gennaio. Una notizia che è stata accolta positivamente dai fan del reality show che da tempo attendono di vedere Luca e Ivana finalmente uniti, felici e innamorati come una coppia qualsiasi. Luca e Ivana continuano ad amarsi de nascosto. Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono fidanzati. Dunque, i follower ci avevano visto lungo, le ultime poesie e canzoni postate dai diretti interessati sui social network parlavano di questo amore nato poco alla volta nella casa più spiata d'Italia. Un amore sbocciato dopo una lunga amicizia è solo dopo che Ivana ha chiuso la sua relazione con Alessandro, il fidanzato imprenditore che ha sempre rispettato durante i mesi di permanenza al grande fratello Vip. Dopo la finale Luca e Ivana non hanno avuto paura di mostrarsi insieme ma per le feste natalizie si sono divisi. La Mrazova è infatti volata a Praga per trascorrere il Natale e il Capodanno con la sua adorata famiglia. Il pensiero era però sempre rivolto all'Italia e in particolare a Mister Italia, con il quale il legame è diventato sempre più forte giorno dopo giorno. . Le parole di Ivana Mrazova su Luca Onestini. . Io e Luca abbiamo un rapporto bellissimo di amicizia. . Tutti ci chiedono se siamo fidanzati, ma non lo siamo. . Viviamo giorno per giorno e vediamo che succederà aveva dichiarato tempo fa Ivana. . . . . .